Questo è un quadro di P.V. de Chavanne e rappresenta il sogno, un giovane che sogna, chi lo sa, la gloria, ricchezze, in realtà spesso i sogni sono angosciosi più che di felicità. Professor Barbero, buonasera. Buonasera. Allora, noi in questa rubrica abbiamo parlato di tante storie nella storia. C'è anche una storia del sogno? Sì, c'è, perché naturalmente le persone hanno sempre sognato e allora per noi storici il problema è la gente del passato, gli antichi per esempio, che ragionavano in modo diverso da noi in tante cose. Ecco, quando sognavano? Sognavano come noi o in un altro modo? E sono stati fatti degli studi, sono stati raccolti tutti i sogni descritti nella letteratura antica, che sono tantissimi, e si è visto che in gran parte si è sempre sognato allo stesso modo. Cioè, i romani per esempio avevano dei sogni simili ai nostri? Sì, per esempio sognavano di volare, che oggi, dicono gli studiosi, è il sogno più diffuso al mondo. Anche lei sogna ogni tanto di volare? Ogni tanto sì, ogni tanto sì. Anch'io, come un allianto. Sì, certo. Oppure nell'Iliade Omero descrive Achille che cerca di inseguire Ettore e non ci riesce e dice è come quando in sogno cerchiamo di correre, di fare in fretta e non ci riusciamo. E quella è una cosa che ci è capitata a tutti. Oppure Aristotele che ha scritto un trattato sui sogni e dice certe volte quando sogniamo sappiamo che stiamo sognando. E anche questo ce lo ricordiamo. Però ci sono delle differenze oggi nel sogno tra gli antichi, ma soprattutto nei significati che vengono dato loro. Sì, perché gli antichi si affannavano a capire se i sogni possono prevedere, preannunziare il futuro. E c'è un tipo di sogno che noi non facciamo più e che loro invece facevano molto. Ti appare un Dio e profetizza il futuro o ti avverte di un pericolo. Ecco, loro di fronte a questo erano molto preoccupati e sognavano spessissimo questa cosa che invece a noi non succede più. Però oggi abbiamo anche noi delle profezie quando appare in sogno un morto che dà i numeri dell'otto. Sì, è vero. Però all'epoca si dava molta più importanza. Perfino la politica, la guerra erano influenzate dai sogni. Un generale usciva dalla tenda alla mattina della battaglia e diceva ai soldati ho sognato il Dio che mi ha promesso la vittoria e i soldati erano entusiasti perché ci credevano. E quindi noi conosciamo moltissimi sogni di Giulio Cesare, di Augusto, di Costantino. Chi conosce i sogni di Churchill o di Mussolini? Insomma, se Mussolini si fosse affacciato al balcone e avesse raccontato un sogno che aveva fatto, non avrebbe fatto bella figura. Anche i popoli primitivi devono molta importanza ai sogni. Sì, specialmente gli aborigeni australiani. Ecco, io li trovo affascinanti. Gli aborigeni australiani hanno questa idea che il mondo dei sogni, anzi il tempo del sogno, come dicono loro, è più vero della vita su questa terra. Gli aborigeni australiani immaginano che quando uno sogna entra in questo tempo speciale, in cui il passato, il presente e il futuro sono tutti insieme, in cui un uomo incontra i suoi antenati, i suoi discendenti e si rende conto che sono una cosa sola. Ecco, di fronte a un mondo così meraviglioso, la miseria della vita quotidiana a loro sembra meno importante. Quindi il sogno che appartiene a un mondo esterno che ogni tanto entra dentro il dirlo, mentre oggi sappiamo che non è vero, che è il contrario, che i sogni nascono all'interno del nostro cervello. Sì, quella è la grande differenza, la cosa che sappiamo in più rispetto ai primitivi o agli antichi, però ho l'impressione che molte altre cose continuiamo a non saperle. E continueremo a cercare qualcosa di capito, ma molto rimane da capire. Grazie professor Barbero.